Mestre, riposo e poi il Vicenza. Sarà un inizio a tinte venete, quello del Teramo, nel campionato che scatta tra due settimane. I Biancorossi infatti avranno subito una neopromossa all'esordio sul campo di Porto Gruaro domenica 27 alle 18.30. Poi due settimane per preparare la trasferta del Menti di Vicenza il 10 settembre. Farsi pure che da queste due trasferte possa arrivare qualche bella soddisfazione e quindi partire poi avvantaggiati. Oggi sicuramente ci aspettavamo che almeno per dare ai nostri tifosi la voglia di rivedere la prima partita dopo il riposo in casa. Però se è così non è che è così, quindi non cambia niente e ci dobbiamo impegnare noi a cercare di riportare qualche punto prima che facciamo la nostra prima partita in casa. Ma è stata una giornata in cui a farla da padrone è stato il caos. Questo perché il Casorende che aveva già fatto rinviare di 24 ore il pomeriggio pescarese dell'Aurum ha comunque rimescolato le carte anche al venerdì. Con ritorno ad Uda C a 57 squadre, tre gironi da 19 e il Renate che dal gruppo A va a far compagnia al Teramo. Sono molto felice per la città di Rende. Senza voler intaccare o diminuire questa loro gioia, devo dire che pur rispettando qualunque aspetto della decisione di un organo di giustizia all'interno del mondo dello sport, credo che quello che è stato deciso oggi non è in linea con quello che noi portiamo avanti da tempo che è il principio della tutela dei valori. E poi c'è anche la questione relativa al minacciato sciopero dei calciatori per via degli stipendi di giugno e per le liste da 14 over. Bisogna superare un attimo l'asticella del proprio orticello, bisogna guardare insieme nella logica della competizione che non è solo una competizione posizionale dove ognuno cerca di arrivare per primo e distrugge tutti gli altri. 16 over quindi non si tornerà a quella volta? Nella maniera più assoluta, la Lega Pro non farà un passo indietro. Dunque la giornata dell'Aurum consegna solo l'antipasto del campionato, le prime tre giornate. Per il resto se ne riparnerà il prossimo 24 agosto all'Assemblea di Lega. Lì si conoscerà il percorso per intero del Teramo, aspettando la fase finale che si svolgerà proprio a Pescara dal 4 al 9 giugno 2018. Sei le retrocessioni, nemmeno una diretta ma tutte tramite i play-out. Tutto invariato invece per la parte alta per decidere chi sarà promosso nella cadetteria. Ci saranno solo sei retrocessioni, due per ogni girone e quindi questo sarà sicuramente un modo e un momento per raffreddare anche qualche tensione in più legato alla politica della competizione sportiva.